come giudicare luigi come no dai sì male male allora quando fa a è un punto se fa a lungo a lungo cominci a valutare un 3 e va bene se non lo senti proprio pregato a se non si sente mi tocca timbrare oggi come il bigliettaio devo fare il bigliettaio del treno che timbra i biglietti oggi mi tocca timbra i biglietti adesso mi danno la pinza vedrai che dopo ti timbro il cappetto va bene sta in zona fanno sbagliare l'altra volta c'era il giudice di